servizio completo l'onora a che roba tira 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 te questa non si tira mica mi sa che qua sei già al massimo che cosa forse è così guarda fatto se no mettegli la cintura normale paolo è meglio che ti metti quella perché così non ti tiene niente perché a prendere una zucata è un attimo ma che cielo pazzesco fine settembre giornata spettacolare soft inizia da quella bucchetta la questa qua c'è proprio scritto soft lì no si si c'è scritto se le tue castelli segui lì soft taglielo perciò dov'è che va vanno da giù passo da terera si va dietro allora andiamo giù si eh bisogna andare di là mi sembra solo che qua mi fanno camminare con queste sali e scendi bella giornata si no infatti ma io adesso cioè fin troppo conosciamo l'arco si si io c'ho roba dietro a fare il bagno eh ma immagino c'ho roba dietro guarda lì qui gli eroi ha fatto la soft ha fatto l'ortense ha sgranchito la turbina si eh fai la soft eh si si inizia da quel buco lì ahahahahah guarda dove si fa guarda dove si missionary si dai 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 ciao ciao è questa? si guarda allora ёт ma allora ci dà fa finta faceva finta ci dà e appuntiamo da tutto vai l'onora brava che brava a 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 sento delle turbine a 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 oh l'arc qua a a la prima buca già a oh la a 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 ci vuole un bel colpo da dietro a 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